Una splendida natura incontaminata fa da cornice all'agriturismo urbanito. Ci troviamo in compagnia di Raffaella Marmo, titolare dell'agriturismo. Raffaella, quali sono i servizi che l'erbanito offre? L'azienda agrituristica urbanito nasce nel 1998, dapprima ovviamente come struttura agricola e zootecnica da generazioni, poi nel 98 si trasforma in agriturismo e i servizi che ha da sempre offerto sono la ristorazione, l'ospitalità, caseificio aziendale, piscina, maneggio. Questo per attirare insomma un po' di turismo e di gente nel nostro magnifico parco nazionale. E a proposito di ospitalità, questa sera e per tre sere l'agriturismo urbanito ospiterà una sagra particolare. Di che cosa si tratta? Sì, diciamo che siamo aggiunti alla sedicesima edizione della Sagra della Pecora. Praticamente una rievocazione storica, soprattutto culinaria, di questo piatto tipico e soprattutto piatto unico che era quello della pecora bollita, ovviamente rivisitata e fatta in più maniere. I piatti che si potranno degustare in queste tre giorni saranno dei formaggi aziendali ovicaprini, poi ci saranno i cavatelli con il ragù di castrato, la bracciola di pecora, la tagliata di pecora all'insalata e poi la classica pastorale, ovviamente che è un bollito di pecora con le verdure, accompagnata da musica florcloristica e tanto buon vino. Quali sono invece i progetti futuri che ha in serbo l'erbanito? L'erbanito porta da sempre con sé un grande progetto, quello della rivalutazione dei prodotti tipici, la conoscenza dei nostri fantastici luoghi, gli allevamenti e quindi la produzione aziendale e lo sport. Lo sport e tanta accoglienza.